ciao bambini oggi abbiamo due sorprese due sorprese che uova di cioccolata la seconda la seconda ve la faremo vedete alla fine del video a metà io la volevo far vedere adesso io vi ho preparato hai già preparato vai ho preparato la cioccolata questa è innanzitutto la fabbrica del cioccolato di giochi preziosi dai sei anni in su tu quanti ne hai? sei allora sei aspetta dentro il gioco danno delle bustine che sono all'interno di una bustina guarda che ti permettono di inserire la cioccolata e metterla nell'acqua calda bravissima lo vediamo e dopo la sciogli quello che io ho fatto adesso ho sciolto la mia allora hai spiegato come funziona? prima di tutto qua ci sono tutte le spiegazioni noi le abbiamo già memoria si scaldano 32 grammi di cioccolata cioccolata nell'acqua calda esatto quindi un terzo poi metti nella tipolina no la metti qua dentro la metti lì dentro e poi lo metti lì dentro stacca tutto allora aspetta prepariamo tutti i pezzi mi serve questo qua poi mi serve questo qua guardate i bambini eh staccalo staccalo bravissimo prendiamo questo lo mettiamo qua dentro quanti grammi sono? vediamo qui 32 che 300 32 grammi come la canzone di Pede la conosci? 32 grammi di felicità ok ora questo lo chiudiamo ok lo mettiamo dentro poi infine ci mettiamo questo qua per tenerelo buono quindi dove lo versiamo? aspettate aspettate chiudete gli occhi 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 vi prepara una super sorpresa si come non potete vedere è fatto perché sapete che questo è l'uovo dei pigiamini no perchè perchè l'hai fatta? cosa? ho capito ma non hai capito niente invece ci possono essere tanti personaggi io non capirai mai quale ma dovevi mettere la allora io ti metto anche quello rosa vabbè e ora cosa facciamo? dobbiamo mettere? eh c'è la cioccolata esatto dobbiamo mettere nolli nolli non si mangia? si mangia dopo e io io piano molto molto piano lentamente guardate questa per noi abbiamo messo la cioccolata come? o l'abbiamo messa? bianca no di bianca al latte abbiamo messo un po' abbondente Simone non piace non basta? ecco perchè ne avevo preparate un altro po' abbiamo proprio finito prendiamo l'altra bustina? si prendiamo l'altra bustina adesso questa busta è ok ok buono ah ti viene la colina eh e ora prendiamo l'altra busta che ho preparato eccolo proprio un golosone proprio un golosone sei ok non era un cifero ah no? ok mettiamo di nuovo qua dentro prima e lo chiudiamo andiamo simone questa volta vedi tu? piano piano no piano eh piano bravo vai 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 la cioccolata mmm coccolina